Cargo 200, un film di Alexei Balabanova. Dunque, professore, non esiste niente. Allora Dio non esiste? No. Allora che cosa esiste? Esiste la materia in movimento. Che percepiamo attraverso i sensi. E l'anima? L'anima esiste? No Alexei, anche l'anima non esiste. Cargo 200, ispirato da una storia vera al cinema.